Per me è la prima volta questa esperienza di giuria nel Festival dei Tulipani di Sieta Nera e devo dire è stato molto interessante innanzitutto per le tematiche affrontate nei vari cortometraggi e soprattutto per quanto riguarda quello che è il mio lavoro, ovvero la selezione degli attori per i film, per le serie, è vedere sempre il talento degli attori e ovviamente quello che mi colpisce in primis e devo dire che di talento ne ho visto molto in questi cortometraggi, tutti molto diversi, sia per il tema, sia per le storie ci sono alcuni che mi hanno colpito ovviamente di più, però devo dire è stata un'esperienza molto positiva e sono molto felice di far parte della giuria.